Sono un componente della Chiesa Valdese di Cirignola e quindi ho quasi il dovere di ringraziarvi e di salutarvi perché siete ospiti delle nostre strutture, il Centro Sociale Evangelico e la Chiesa Nord. Ma al di là di questo voglio ricordarvi che questa sera ci apprestiamo a firmare un patto di collaborazione tra l'amministrazione comunale, i residenti del quartiere, la cooperativa Padre Pio, la cooperativa L'Abraccio, il Centro Agape e non per ultimo ma solo perché devo essere gentile nei confronti degli altri attori ci mettiamo noi, la Chiesa Valdese e il Centro Sociale Evangelico. Ma io stasera voglio ringraziare non solo tutti gli attori, quindi la cooperativa Padre Pio, la cooperativa L'Abraccio, il Centro Evangelico, la Chiesa Valdese ma soprattutto voglio ringraziare tutti i residenti di questo pezzo di città. L'obiettivo è proprio questo, amministrazione comunale attraverso un progetto, attraverso uno strumento che ci è stato messo a disposizione e approfitto per dare il benvenuto e ringraziare il dottor Pasquale Bonassora, referente regionale di Lapsus, quindi lo strumento, l'operatore di sussidiarietà, ci danno la possibilità di mettere insieme amministrazione comunale, residenti di questo quartiere e cooperative che ho citato prima. Insieme dobbiamo abbellire un pezzo di città. L'obiettivo è questo, è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, approfitto per portarvi anche i saluti del sindaco che ci teneva tanto ad esserci però non è riuscito e soprattutto anche degli assessori, Pasquale Morra e Anna Maria Mininni che è stata qui con voi questa mattina proprio per dimostrare l'attenzione di tutta l'amministrazione comunale rispetto a un pezzo di città che ha voglia di riscattarsi. Insieme dobbiamo migliorare Cerignola, questo è il concetto, voi lo avete cominciato egregiamente e veramente faccio i complimenti a tutti i ragazzi che stamattina si sono cimentati nella pulizia e nelle attività che si sono svolte e faccio i complimenti anche se prima a chi si adopererà non solo nelle ore successive ma anche nei giorni che verranno. È una sfida che abbiamo deciso di intraprendere insieme e secondo me insieme dobbiamo tagliare questo bel traguardo. È il primo patto di collaborazione firmato nella città di Cerignola. Pasquale io credo che questo sarà l'inizio di una lunga serie perché la città di Cerignola è pronta ad adottare questi strumenti di collaborazione. Noi portiamo semplicemente gli strumenti e il merito è tutto vostro. Non è solo il primo patto della città di Cerignola, il primo patto di tutta la provincia di Foggia. Ed è bello farlo qui in una piazza non centrale, è bello farlo realizzare, sottoscrivere tutti insieme un patto che non ha solo l'obiettivo di ripulire un po' la piazza. Il patto che abbiamo costruito insieme nel corso di questi mesi ha l'obiettivo di costruire legami più forti tra questa piazza e il resto della città. Questa è la concretizzazione di un progetto che nasce in questi mesi ma è un percorso molto lungo. La Chiesa Valdese sul quartiere è qui da più di un secolo, non siamo appena arrivati, il centro sociale fa il suo lavoro. Dagli anni 70 cerchiamo di essere sempre più motivo di autonomia, di formazione, soprattutto di speranza per il presente e per il futuro.